Il consigliere comunale presidente della commissione istruzione, cultura, sport e spettacolo di aggregento Carmelo Cantone, a seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini e associazioni di categorie, ha depositato al comune un atto di indirizzo affinché si intervenga subito al rimedio del degrado ambientale delle pessime condizioni igieniche in alcune parti della città, come tra le vie Joenni e via Madonna degli Angeli. Cantone afferma la città è invasa da sacchetti di spazzature e cumuli di rifiuti di ogni genere. La scerbatura avviene solo in particolari zone, lasciandone altre in totale abbandono. Tutto ciò crea un perfetto habitat per i topi. Tanti residenti, come tra le vie Joenni e Madonna degli Angeli, sono costretti a tenere chiuse porte e finestre per evitare che entrino i topi. La situazione in città è ai limiti della vivibilità e quel che è più grave è che ciò avviene proprio nel periodo di maggior afflusso turistico. Bisogna programmare con urgenza un intervento straordinario di derattizzazione, a tutela della salute e della pubblica incolumità.